Migliora ancora la situazione epidemiologica nel nostro Paese, il tasso di incidenza di casi di Covid-19 è intorno a 25 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'RT siamo al di sotto dell'unità, intorno a 0,68. Anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica è ben al di sotto della soglia critica, fissandosi intorno all'8%. Dato che però continuano a circolare delle varianti virali ad alta trasmissibilità che in alcuni Paesi europei hanno provocato un certo aumento dei casi, è bene continuare a mantenere dei comportamenti individuali prudenti.